se mi fischiano posso dire che a me personalmente poi è vero che è una cosa soggettiva perché ho parlato anche con amiche che si arrabbiano anche quando parliamo di queste cose perché io dico non esageriamo il tutto però per me è un apprezzamento no 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 dipende anche chi lo fa dipende anche chi lo fa dipende anche chi lo fa però va bene non puoi però dire se è bello allora è un apprezzamento se è brutto non si può dire questa roba Monica non si può dire questa roba grazie a tutti